allora signori siamo nello storico teatro di Loris e Lucille, il piccolo teatro facciamo piano piano perché è una cosa intima, oggi qua c'è l'imbicciola però a parte questo dentro vediamo che c'è stata caro Loris la storia è bene, è bene, è bene, seguiteci, seguiteci, seguiteci ecco qua piano piano e allora noi su questo splendido teatro ci sono stani Loris il regno dell'arte e abbiamo dei manifesti fantastici guarda guarda abbiamo il mago Dimis, poi abbiamo Mirko Menegatti campione mondiale di magia, abbiamo avuto proprio le magie di Leonardo Dino Fimiani, Gianfranco Ponte, in arte totò che lui ha fatto Rocco Barbaro, Francesco Scibemi, tutti su questo palco ragazzi il trio jazz amato, Camillo Balcone Trio ragazzi una storia, oltre al teatro ci facciamo pure musica esatto, 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 l'amato jazz trio Loris scusa, sì che c'è? è questo? c'è crisi, stampare i manifesti costa e dunque mi faccio questo, non si può fare di meglio musica Grazie per la visione!